cercavo da tempo un posto dove venire a lavorare per levarmi da casa mi trovo molto bene bello centrale pulito c'è lo spazio relax un microonde se non si vuole portare da casa qualcosa da mangiare in realtà è da due giorni che vengo qua è proprio una cosa nuova per me me ne ha parlato la mia collega mi ha parlato di questo spazio comunque aperto al pubblico dove poter comunque studiare tutti i servizi comunque può andare agli sono i bagni macchinette caffè comunque wifi e tutto allora io l'ho scoperto tramite miei figli e pensi che io abito a pelli prendo la nave bus ogni tanto vengo qua perché mi piace un ambiente sereno tranquillo pulito personale gentile durante le pause oltre a studiare possiamo anche andare ad esplorare il mondo marino tramite questi schermi interattivi che sono presenti al piano terra o anche tramite il microscopio e c'è sempre una persona esperta disposta a spiegarti è molto molto interessante a